Buon salve, bentornati su Noma Mammazzo, edizione speciale Luca Comics 2019. Quest'anno, come da molti anni a questa parte, ci ha regalato tantissimi ospiti importanti. Ospite d'onore era Hirohiko Araki, creatore delle bizzarre avventure di Jojo. C'era come ospite Patrick Stewart, il Professor X della saga degli X-Men, ma anche Jean-Luc Picard della serie TV Star Trek. Star Trek che riverrà proposta da Amazon Prime Video e Patrick Stewart rivestirà i panni ancora di Jean-Luc Picard. Inoltre erano presenti anche autori del fumetto americano di un certo peso come Chris Claremont, il padre degli X-Men, come Jim Starling, il padre delle saghe cosmiche degli Avengers, degli eroi Marvel in generale. C'erano un sacco di ospiti stranieri come quelli che ho poi nominato, oltre chiaramente a tutti gli ospiti nazionali, italiani. C'era, come sempre c'era Roberto Orecchioni, hanno lanciato l'universo cinematografico Bonelli. Avevo già detto un mio video precedente della presenza di una serie TV su Dylan Dogg. Qui hanno annunciato anche un film su Dumpir e l'hanno annunciato all'interno di questo Bonelli Cinematic Universe. Quindi si presume che questo film sul Dumpir sarà collegato anche magari alla serie TV di Dylan Dogg e a progetti futuri di questo universo cinematografico Bonelli. A dare seguito a questa teoria sono anche gli stessi numeri di Dylan Dogg. Vi ricordo che è finito il ciclo della meteora per chi è stato a Luca Comics, perché hanno lanciato in anteprima il numero 399 e il numero 400, che ora vi faccio vedere, che però ufficialmente si concluderanno con la fine del 2019. Il numero 399 uscirà a novembre e il numero 400 uscirà a dicembre. Farò dei video spoiler particolari in anteprima su questi due numeri. Ma vi posso dire che già da quello che si percepisce è che molto probabilmente ci sarà un rilancio di un universo bonelliano più coeso proprio per agganciare tutti gli eroi assieme e per collegarsi anche all'universo cinematografico Bonelli, almeno da quello che si è respirato nel numero 399. Senza indugio vado a mostrarvi i miei acquisti di Luca Comics. Allora, partiamo appunto da quello che ho appena detto, il numero 399 di Dilan Dog, che ho preso nella edizione Variant. Ok, c'era anche l'edizione contenente 3 Variant, più il numero in cui Dilan Dog si era già sposato l'altra volta. C'erano le bolle di sapone, c'era l'anello. Io non prendo troppe cose, mi limito a prendere il fumetto. Poi molto probabilmente in questo caso prenderò anche l'edizione da Edicola, perché mi piace molto la copertina di Gigi Cavenago che ho visto che uscirà con questa copertina. Però anche quest'altra copertina è molto, molto bella. Dopo il numero 399 ovviamente viene il numero 400 che potete trovare a Luca solo in questo formato da libreria. contiene anche un'intervista a Roberto Recchioni, che è lo sceneggiatore, e a Angelo Stano, che è il disegnatore di questa storia, insieme anche a Corrado Roy, che contribuisce ai disegni. Non so, dato che il numero 400 solitamente è un numero a colori, non so se nell'edizione da Edicola lo vedremo a colori. Qui è in bianco e nero. Parlando di numeri di D-Landog a colori, appunto vi mostro D-Landog e Batman. Queste sono due variant, attenzione, sono due variant dello stesso numero, ok? Non sono due numeri, sono solo due variant. La versione con i protagonisti e la versione con gli antagonisti, ok? Quindi Joker, Xabaraz, Killer Croc, Catwoman. Qua invece vediamo D-Landog, Batman, Groucho, Block, Alfred e Gordon, ok? Questo è il numero 0, uscito in anteprima per Luca Comics. Il numero 0 di una serie di tre numeri che partirà da gennaio 2020. Non so con che cadenza, se lo spalmeranno su tutto l'anno, o se lo spalmeranno a cadenza mensile nei primi tre mesi, non ve lo so dire. Il numero 0 è davvero piccolissimo, è una storia delle origini che ci spiega come questi due mondi, il mondo di D-Landog e il mondo di Batman, possano coesistere. E poi si ferma, ci fa solo sentire il profumo di questo crossover per poi lasciarci a quello che uscirà. Quindi spero che il numero 1, 2, 3 siano anche più corposi rispetto al numero 0. Dopodiché ho preso finalmente in italiano, in un formato cartaceo, Vita da Miancia, il fumetto che se seguite per esempio Caverna di Platone conoscerete sicuramente, che narra di questo ragazzo che muore e si rincarna nel corpo di Yanko all'inizio della prima saga di Dragon Ball, sapendo appunto quale sarà il suo destino, perché appunto questo ragazzo ha letto Dragon Ball e quindi sa quale sarà la fine di Yanko e non vuole, non vuole assolutamente morire. Cosa succede? Sapendo questo si allena per diventare più forte di quanto non è mai stato Yanko per combattere i nemici che dovrà affrontare nelle varie saghe di Dragon Ball. Questo è il plot, non l'ho ancora letto, me lo sono tenuto per ultimo, ho preferito leggere Prima di Landog per farvi dei video specifici sull'argomento. Poi vi faccio vedere anche un'ultima chicca. In questi giorni dovrebbe uscire un video di unboxing su una statua della Banpresto di Goku, che ho preso al Rimini Comics, gli ho trovato un compagno in quest'altra fiera, ovvero il suo eterno rivale Vegeta, ok? Che bello, fantastico, Vegeta a forma base con il vestito, diciamo, della saga di Majin Buu. Ultimo, ma non meno importante, torniamo al Detective Mascherato, album panini di Batman in occasione dei suoi 80 anni di carriera, diciamo, di vita, di longevità. Perché ho preso un album panini? Io di solito non faccio lo spacchettamento, ma se mi seguite già lo sapete che collaboro a volte con il canale Sfumatoso, quindi con il mio caro amico Sfumatoso farò lo spacchettamento di questo album panini del suo canale, non nel mio, nel suo canale. Con questo è tutto, questo era solo un mini video introduttivo per anticiparvi quelli che saranno i miei prossimi video. Farò un video sul 399 di Dylan Dog, un video sul 400 di Dylan Dog e un video sulla saga della meteora di Dylan Dog. Lo spacchettamento sarà appunto sul canale di Sfumatoso, vi metto il link in descrizione anche alla fine del video. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di attivare la campanella delle notifiche e di condividere il video con tutte le persone che sono state a Lucca Comics. A proposito, dato che ci avanza un pochino di tempo, voi siete stati a Lucca Comics? Vi è piaciuto quest'anno? Vi è piaciuto più degli altri anni? Vi è piaciuto meno degli altri anni? Cosa vi è piaciuto? Cosa non vi è piaciuto? Fatemelo sapere nel video. Anch'io ho i miei pro e i miei contro di questo Lucca, ma appunto sono stato poco. Sono stato due giorni, in questi due giorni in uno c'era una pioggia di acqua, nell'altro c'era una pioggia di persone e quindi sono un pochino influenzato da questi due fattori. Quindi se voi avete avuto una qualunque esperienza positiva o negativa su Lucca Comics, fatemelo sapere nei commenti che così vediamo se abbiamo avuto delle esperienze comuni che possiamo usare per portarle alla prossima edizione di Lucca. Fatemi sapere anche se vi siete trovati bene con gli alloggi. C'è stata, come molti di voi sapranno, una maxi truffa sugli alloggi a Lucca. Quest'anno sono state coinvolte quasi 100 persone. Spero proprio che voi che mi seguite non facciate parte di queste 100 persone. Se così fosse però fateci sapere, magari ne parliamo nei commenti così diffondiamo anche le nostre esperienze negative proprio per evitare che altre persone le subiscano. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Grazie.